Ho guardato dappertutto, mamma. È evaporata, non c'è! Bea! Allora, la prima cosa da fare è prendere i lombrichi e poi trovare il modo di avvicinarci di nascosta a Nancy. Ecco l'incantesimo, perpetuo ballo. Balla ti dico come un lombrico. Basta dire le parole magiche e lanciare i lombrichi, è molto semplice. Ok, quanti lombrichi ti servono di preciso? 20 lombrichi, di preciso.